Di ginocchio, non di culo, perché... A tirarmi i piedi... E dai, ti faccio una foto non pietosa mentre stai andando, non è caduto, dai vai! Vai! Una foto bella! Mi sento osservato! Dai che dopo questo filmato qua lo guarderanno! Fio, a questa c'è una posizione plastica mitica! Grazie!